Il miglior modo di vivere un territorio è riunire l'aspetto turistico al movimento, correre o pedalare metro per metro per conoscere le sfumature delle colline della Val di Nievole, il lungomare della Versilia o le salite della Poane. L'edizione del 2016 della Borsa del Turismo Sportivo, in programma dal 7 al 9 ottobre a Montecatini, porterà oltre 70 investitori internazionali nella città delle Terme, con un programma intenso di seminari, incontri ed escursioni per far conoscere una Toscana che va al di là delle sempre incantevoli città d'arte. Questa edizione del BTS vuole, se possibile, essere ancora più dinamica e cercare di consolidare un rapporto e una sollecitazione non tanto e non solo al settore del turismo sportivo, ma sottolinearne la continuità con il mondo del termalismo. Sappiamo tutti che nella complessità dell'offerta turistica toscana il mondo delle Terme è quello che ne soffre più di altri. Legare queste grandi potenzialità di accoglienza allo sport, alla cultura degli eventi sportivi, alle manifestazioni di grande scala, significa dare coerenza a domande e offerte che in Toscana possono trovare appunto accoglienza e risposta. Una borsa del turismo sportivo che si rivolge soprattutto agli investitori del nord Europa e che in questa edizione presenterà anche il portale bts365.it, piantaforma online operativa tutto l'anno sul turismo sportivo per far conoscere in modo costante tutte le opportunità del territorio toscano. Partiremo con il campo mondiale amatoriale di basket per il 2017 e poi stiamo alla ricerca di altri eventi. Certo Montecatini e la Toscana sono un territorio molto valido per fare queste cose.